Noi abbiamo sempre fatto proposte, purtroppo questo messaggio non è riuscito a passare perché tante persone sono andate in televisione dicendo il contrario, però noi è un anno che siamo dentro al Parlamento e abbiamo fatto tante proposte che la maggioranza ha bocciato. Abbiamo proposto il reddito di cittadinanza, l'abolizione dell'IRAP, l'abolizione di Equitalia, ci sono sempre state bocciate, per cui in realtà io la vedrei con un'apertura al contrario e forse finalmente la maggioranza vediamo se avrà voglia di accettare qualcuna delle nostre proposte.